E allora amici miei, è Ratta Corrigi, Chiara Ferragli non è affatto tornata a casa, è tornata una sua collaboratrice dalla famiglia, invece Chiara è qui in un locale molto notturno scatenatissima, sono contenta per lei, e il giorno dopo cosa fa? Pilates! Allora secondo me sta facendo una vacanza fenomenale, passiamo al lago invece! Nel lago, guarda, ciao ciao ciao! Quella la Gabri!